Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono Zio Krik con la pagina Widdle Al cui voi mi conosceranno, altri no ma non mi importa Allora niente, sono qui perché da qualche giorno abbiamo rilasciato la demo del nostro fangame Che sarebbe Pokémon Xenoverse In questa demo c'era un easter egg molto carino che però nessuno di voi ha trovato E nessuno di voi ci ha segnalato Quindi io sono qui per mostrarvi di cosa sto parlando Andiamo subito, farò subito vedere come trovarlo e cosa fare per trovarlo Allora innanzitutto ci troviamo al Megapark Ovvero la zona finale della nostra demo Dove verrà testata la Mega Evoluzione eccetera eccetera Allora l'importante, bisognerà avere Elekid a livello 20 in prima posizione Una volta che avrete Elekid a livello 20 in prima posizione Non importa se è un livello superiore, va bene uguale Bisognerà andare esattamente qui, contro questo albero Una volta che andrete contro questo albero dovete premere 5 volte C Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 Fatto questo dovrete compiere dei movimenti particolari Ovvero giù, sinistra, sinistra Sopra, sinistra Giù, destra, sopra, destra Sotto, destra Arrivati qui dovete ripremere nuovamente C altre 5 volte Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 Fatto questo andiamo giù Scendiamo E vedrete che più o meno a metà di questa strada succederà qualcosa Ecco qua Sembra che tu abbia i requisiti E se noi ci andiamo a premere ci troveremo completamente in una nuova zona Allora questa zona io adesso ve la taglio perché non voglio spoilerarvi cose Voglio che la scopriate da soli E che ve la godiate da soli Ci stanno tante cose figlie in questo percorso Quindi adesso taglio e ci sentiamo tra poco Come potrete vedere dallo schermo Una volta completato tutto il percorso e completata la piccola grotta che ci sarà Vi troverete di fronte a un Pokémon leggendario che ancora non abbiamo annunciato Sto parlando di Aerialox La sua storia dietro ve la diremo più avanti Io adesso ve l'ho censurato perché dovete guardarvelo voi Quindi niente divertitevi Fatevi sapere se ci siete riusciti E ci si vede E ci si vede E ci si vede